Sono in tutto 558 le domande ritenute ammissibili ai fini dei contributi previsti dal bando CM Vino destinato agli investimenti in cantina per la riconversione dei vigneti nell'ambito della campagna 2022-2023. Il Dipartimento dell'Agricoltura regionale ha pubblicato la graduatoria provvisoria sul portale istituzionale della Regione Sicilia. Il bando ha una dotazione finanziaria di 13 milioni di euro per sostenere diverse tipologie di intervento come operazioni di estirpazione e reimpianto, sovraennesti, realizzazione di impianti di irrigazione, meccanizzazione, modifica della forma di allevamento e sostituzione delle spalliere di sostegno. Con questa iniziativa la Regione si pone l'obiettivo di aumentare la competitività delle produzioni vitivinicole siciliane adeguandole alle esigenze di mercato. Il sostegno ai produttori è finalizzato a finanziare, anche fino al 100%, le spese sostenute per la ristrutturazione e la riconversione delle strutture aziendali. Le domande ammesse sono in totale 558, di cui 342 provengono dalla provincia di Trapani, 88 da quella di Agrigento, 74 da Palermo, 13 da Catania, 11 da Caltanissetta, 9 da Ragusa, 6 da Siracusa, 3 da Messina, mentre 12 aziende ammesse a finanziamento hanno i vigneti in più province.